signori la fortuna è in un altro biscotto film commedia italiano del 2023 neanche troppo lungo strano molto strano tra gli attori c'è il commissario della serie tv blanca non so se avete visto se è interessante ed è molto bravo con l'attore il film è strano strano continua ripetere strano è un sette e mezzo bisogna vederlo per capirlo fatto abbastanza bene però qualcosina manca basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciato la ciao